Il primo incidente sul Gran Sasso salvato un uomo di 78 anni. Discussione sulla legge di bilancio. Approvate numerose proposte della maggioranza. Lavoratori precari della ricostruzione. Irrisolta la loro problematica, critiche della CGL. Rinviato al dissequestro dei viadotti. Le perplessità del presidente della regione Marsiglio. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. A seguito delle tragedie che si sono verificate sul Gran Sasso, che hanno visto tre persone perdere la vita in due distinte incidenti tra il giorno di Natale e Santo Stefano, è intervenuto Daniele Perilli, responsabile del soccorso al Pino Abruzzo, che ha ribadito ancora una volta che andare in montagna è bello, ma bisogna saperci andare con molta preparazione alle spalle. Prima di affrontare una salita in montagna, bisogna innanzitutto conoscere bene le condizioni meteorologiche e il sentiero che si intende percorrere. Ricordiamo che due giovani alpinisti hanno perso la vita, mentre tentavano di raggiungere la vetta del Gran Sasso sul versante orientale. Risa Barone, 25 anni, ed Andrea Antonucci, 28, entrambi di Corfinio, un paesino in provincia dell'Aquila. Erano con altri due alpinisti e legati tra di loro a due a due, quando sono scivolati, precipitando a valle per un migliaio di metri. I supersetti hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri del 118 di Pescara e l'Aquila, con a bordo i tecnici del soccorso alpino-aspeleologico Abruzzo. Una volta raggiunti i due giovani, i soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso e le salme sono poi state recuperate. State invece travolta da una slavina, circa 2.500 metri di altitudine, un'escursionista di cui non si avevano tracce ormai da 24 ore. La donna aveva deciso di raggiungere il corno grande del Gran Sasso la mattina di Natale. La donna, Franca Di Donato, che avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 7 gennaio, era residente a Roseto, in provincia di Termo, ed era un'esperta alpinista. La preparazione in molti casi non basta, conferma quindi Perelli, perché esiste comunque una forte componente di fatalità. Ci sono sempre comunque pericoli oggettivi. In montagna la sicurezza totale non esiste. Quello che possiamo fare è cercare di limitare al massimo i pericoli. Ed un incidente in montagna si è verificato anche oggi. Scivola per 400 metri in un canalone, ma è vivo nonostante i numerosi traumi. Si tratta di un uomo di 78 anni, impegnato in un'escursione con altri due compagni sul Monte Vettore, in rilievo più alto del massiccio dei Sibillini. Un incidente con il recupero dell'infortunato, circa 1750 metri, è venuto sul versante sud-occidentale della montagna. A intervenire sul luogo è stato l'elicottero del 118 dell'Aquila, con a bordo il tecnico di elissoccorso del soccorso alpino e speleologico Abruzzo. Recuperato per mezzo del verricello, l'uomo è stato immediatamente trasportato all'ospedale civile Mazzini di Teramo. Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico lancia, per cui un nuovo appello a tutti i frequentatori della montagna, valutare attentamente le condizioni del terreno prima di intraprendere un'escursione. Questi giorni infatti il manto nevoso risulta particolarmente instabile e con diversi tratti ghiacciati, spesso anche poco visibili. Prosegue in regione la discussione sulla legge di bilancio. Nel dettaglio alcune delle norme contenute nel provvedimento mille proroghe. Prorogati termini dei commissari per le comunità montane che dovranno predisporre il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo a ciascuna comunità montana soppressa. I commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono ad alla carica la data del 31 marzo 2023. Prorogati di un anno i termini per la presentazione delle domande di sanatorie edilizia, presentate ancora pendenti al 31 dicembre 2021. Prorogati termini per la frequenza obbligatoria e corse di formazione sulla biologia della fauna ittica per i quali la Giunta regionale sta proseguendo l'iter di definizione dei criteri e delle modalità di attuazione. Sostituita parzialmente la previsione normativa regionale, quella quale si prevede che all'interno del Parco naturale regionale del Serente Velino sono consentiti, anche se difformi dalle previsioni del piano per il Parco, gli interventi previsti dai piani paesistici. Modificante anche la norma sul personale dell'ente Parco, il nuovo comma della legge regionale del 2011 dispone che Il direttore del Parco è nominato dal Presidente del Parco con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attività di direttore di Parco nazionale del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di aree protette regionali. Ha approvato poi un ammendamento che consente ai comuni di fare fronte alle spese per interventi urgenti conseguenti a diversità atmosferiche. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dagli stessi comuni per l'adeguamento e recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane. Ogni comune potrà presentare istanza al dipartimento competente per un importo massimo di 100.000 euro fino ad esaurimento dello stanziamento. Oggi, con l'approvazione di un emendamento a mia prima firma agganciato al decreto 1000 proroghe, abbiamo ottenuto un grande risultato a favore dei diritti di tutti i cittadini abruzzesi. La firma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Sanità di Regione Abruzzo, Francesco Taglieri. Fino ad oggi spiega che la sondia massima per lo soffroiere di questo fondo al sostegno delle persone non autosufficienti erano i 67 anni. Si trattava di un grave discriminazione che impediva di fatto il pieno godimento dello stile di vita attiva che è importante per contrastare le patologie indipendentemente dall'età della persona in causa. Al tempo stesso la possibilità di prendere come riferimento all'ISEE il socio-sanitario consentirà di utilizzare modalità di calcolo specifiche per la situazione di disabilità tenendo conto di fattori ad essa strettamente legati. Con l'intervento che siamo riusciti ad ottenere possiamo finalmente sanare due ingiustizie che riguardavano persone già costrette ogni giorno a dover affrontare le difficoltà della vita quotidiana e hanno diritto di essere aiutati a dovere senza distinzioni di età e prendendo come unico punto di riferimento la loro reale condizione di vita, conclude Taglieri. I responsabili del sindacato pensionati di CGL, Cisla e Uguile in un comunicato stampa commentano alcuni aspetti della legge di bilancio in discussione, come sappiamo, al Consiglio regionale abruzzese. Tra l'altro scrivono apprendiamo che in occasione della discussione sul bilancio di previsione si sia manifestata la volontà di alcune forze politiche di intervenire sul tema degli anziani, dei pensionati, di problemi inerenti alla loro vita sociale e all'invecchiamento attivo. Nel prendere atto di tale volontà e pur non conoscendone il merito e contenuti che si vogliono assumere, ci permettiamo di ricordare che esiste già una legge regionale in materia, ritenuta tra le più avanzate nel panorama italiano con un solo difetto, la scarsità di finanziamento. Le organizzazioni regionali di pensionati d'intesa con le richieste già avanzate dalle Confederazioni CGL, Cisla e Uguile in sede di audizione alla Commissione di bilancio il 12 dicembre scorso chiedono di finanziare adeguatamente la legge già in vigore dove vi sono contenuti argomenti in grado di svolgere bene un'azione ad ampio raggio per promuovere un'azione politica ed un ruolo proattivo verso i pensionati e gli anziani della nostra regione. Considerato che lo senziamento iniziale dell'attuale legge regionale è risultato completamente inadeguato, valutato che le altre regioni hanno accompagnato le rispettive leggi sull'invecchiamento attivo con ben altre dotazioni finanziarie ricordando che l'indice di dinvecchiamento della popolazione abruzzese è tra i valori più alti d'Italia. Si chiede di inserire nel documento di bilancio una somma adeguata alle esigenze della popolazione anziana abruzzese. Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospieri Durante i lavori dell'Assemblea è salutato oggi all'Aquila Antonella Santuccione Cianda, originaria di Cepagatti nominata dalla rivista svizzera Women Business, donna dell'anno 2019. Santuccione in precedenza è stata premiata con il bracciale Ailod Abruzzo realizzato dall'orafo avezzanese Giuliano Montaldi dal CRAM che è il Consiglio regionale abruzzese nel mondo rappresentato dal Presidente della Giunta Marco Marsiglio ed è consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Sara Marcozzi oltre che dal rappresentante dell'Osservatorio regionale sull'emigrazione Antonio Innaurato, cofondatrice e CEO del Women's Brain Project medico con profonda esperienza in patologie cliniche, neuroscienze e disturbi psichiatrici Antonella Santuccione attualmente labora come Global Medical Manager per la ricerca sulla malattia dell'Alzheimer Prezzo Roche Diagnostic come medico da decenni di esperienza nella ricerca preclinica nel trattamento dei pazienti, nello sviluppo clinico e nella creazione del quadro normativo internazionale per la malattia dell'Alzheimer sempre concentrata sulla risoluzione di enigmi legati all'Alzheimer ma anche ad altre malattie psichiatriche ha lavorato con Swiss Medic, con diverse università europee con la Commissione Europea per la Salute e la Sicurezza Alimentare l'Organizzazione Mondiale della Sanità e diverse organizzazioni di ricerca sulla malattia dell'Alzheimer nel 2018 è stata nominata nella Top 100 Women Business in Svezia come detto e quest'anno è stata insegnata come una delle persone più importanti della città di Basilea Sospiri nel suo saluto ha sottolineato come questa eccellenza abruzzese nel campo medico-scientifico è fortemente interessata a rimuovere tutti i pregiudizi esistenti in modo che la medicina di precisione e le nuove tecnologie possano essere consegnate ai pazienti con la dovuta tempestività Santuccione ci ha da 45 anni marito indiano e due figlie si è detta privilegiata per essere stata accolta nell'Aula Consigliere Abruzzese nella consapevolezza che traguardi raggiunti restano il diatico per il lavoro fin qui condotto e mentre volgono al termine le commemorazioni per il decennale del sisma del 6 aprile 2009 si fanno dovuti bilanci sullo stato della ricostruzione continua a rimanere irrisolta la problematica dei lavoratori precari della ricostruzione che nonostante le mille difficoltà normative, logistiche ed ambientali hanno lavorato e lavorano con spirito di abnegazione al raggiungimento degli obiettivi è quanto scrive Anthony Pasqualone, segretario generale della CGL Funzione Pubblica tra l'altro evidenzia che nella stesura di un bilancio di fine anno dei 50 lavoratori assunti per i due uffici speciali 25 per l'USDRA e 25 per l'USRC ad oggi risultano in forza rispettivamente 13 per l'ufficio dell'Aquila e 20 per l'ufficio di Fossa così come per il Comune dell'Aquila dei 56 lavoratori contrattualizzati a tempo determinato oggi ne risultano in forza 46 tale esodo di personale dovuto alle condizioni di incertezza generate dalla precarietà lavorativa infatti i predetti lavoratori hanno preferito scegliere situazioni lavorative certe e stabili ancorché distanti dal territorio piuttosto che continuare a vivere in una situazione di precarietà ricorda che la scadenza contrattuale per tutto il personale precario a seguito dell'ultima proroga avvenuta con la legge di bilancio 2018 è fissata al 31 dicembre 2020 questi lavoratori negli anni hanno dimostrato di saper sostenere l'attività ricostruttiva dei comuni del cratere e della città capoluogo ricostruzione non solo edilizia ma anche sociale ed economica così come prevista dalla stessa legge barca più va ricordato che alcuni servizi del Comune dell'Aquila sono svolti esclusivamente da detto personale assunto a seguito delle norme emergenziali post-sisma la necessità è quella di trovare una soluzione definitiva alla situazione di precarietà dei lavoratori che vedranno la scadenza dei loro contratti il 31 dicembre 2020 mentre in molte pubbliche amministrazioni sono state avviate o si stanno avviando i processi di stabilizzazione il rischio concreto è quello di vedere nella provincia dell'Aquila nei confronti delle lavoratrici e lavoratori della ricostruzione inapplicata la legge Madia laddove lo stesso governo promuove un percorso di valorizzazione del personale precario per questi motivi la funzione pubblica della CGL ritiene necessario ed urgente promuovere un costruttivo confronto con le forze politiche il governo e le amministrazioni di competenza al fine di giungere in tempi certi alla garanzia di stabilizzazione di tutto il personale precario il rinvio del dissequestro dei viadotti autostradali della 14 provvedimento che era atteso nella giornata di ieri a una pessima notizia per l'Abruzzo sono rimasto in contatto fino a tarda sera con il ministro De Micheli e l'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi per sollecitare una positiva soluzione della crisi l'ha affermato il presidente della giunta regionale Marco Marsilio che è intervenuto nuovamente sulla vicenda dei viadotti ancora sequestrati sul tratto autostradale marchigiano abruzzese dell'A14 la società autostradale dichiara a piena voce che i viadotti sono sicuri e che la procura sono stati fornite tutti i documenti necessari lamentando nello stesso tempo il fatto che sia la procura che il ministero continuano a richiedere ulteriori relazioni osserva ancora Marsilio di questo estenuante braccio di ferro a farne le spese sono i cittadini e le imprese imbottigliati nel traffico senza alternative spero che il senso di responsabilità prevalga e che nelle prossime ore le nostre strade tornino ad essere percorribili il 26 dicembre 2017 all'età di 87 anni moriva d'Avezzano Antonio Rossini presidente onorario della sezione marsicana dell'ANPI l'associazione nazionale partigiani d'Italia dirigente contadino marsicano è stato presidente regionale dell'Alleanza dei Contadini dal 1963 al 1990 è stato capogruppo del partito comunista italiano poi partito democratico della sinistra al consiglio comunale di Avezzano dal 1975 al 1985 è stato consigliere regionale d'Abruzzo è stato anche autore di vari libri tra i quali 8 mesi di ferro e fuoco giustizia negata le vicende del Fucino dal 1670 ai giorni nostri sabato 28 e domenica 29 dicembre a Petra e Ladieri si chiude la seconda edizione di Presepri in mostra esposizione di presepi artigianali realizzate da Angela Moscatiello e Andrea D'Innocenzo per le strade del paese tornano quindi a rieprirsi le cantine che custodiscono i bellissimi presepi di Angela e Andrea ma anche di tanti altri cultori del presepe che hanno aderito alla mostra a cielo aperto di presepi artigianali e per ultimo fine settimana del 2019 nel paese dei presepi c'è una sorpresa anche per i bambini sabato 28 dicembre dalle ore 15 alle ore 16 e domenica 29 dicembre dalle ore 12 alle ore 13 arriverà la Befana per ritirare le letterine in vista dell'Epifania e distribuire caramelle la mostra sarà aperta quindi sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle ore 11 alle ore 17.30 la legge approvata dalla Regione Abruzzo per fissare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi popolare non ha alcun contenuto discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri anzi riprende esattamente le disposizioni statali previste nel testo unico in materia di documentazione amministrativa del 2000 che non è mai stato dichiarato in costituzionale da parte della consulta e riprende disposizioni identiche già in vigore in altre regioni italiane a questo punto non comprendiamo perché la Regione Abruzzo dovrebbe essere un'eccezione ed è chiaro che l'impugnazione della legge da parte del governo è destinata ad essere bocciata dalla Corte Costituzionale l'hanno detto il Consigliere regionale della Lega Vincenzo Dincecco autore dell'emendamento che ha determinato l'introduzione del requisito impugnato dal governo ovvero l'obbligo per i cittadini stranieri di dimostrare di non essere proprietari di immobili e di non avere redditi superiori al limite di legge producendo i relativi documenti per essere assegnatari di casa popolare e il coordinatore regionale della Lega in Abruzzo Luigi Deramo il testo legislativo approvato è chiaro e semplice ha sottolineato il Consigliere Dincecco ovvero prevede che tutti i cittadini italiani e stranieri per vedersi assegnato un alloggio popolare devono dimostrare di non essere proprietari di immobili in Italia o all'estero e devono produrre la propria condizione economica e nel merito per la verifica non basta più un'autocertificazione ma vanno presentati documenti reddituali e patrimoniali del Paese in cui hanno la residenza fiscale ovviamente abbiamo anche previsto delle eccezioni per le situazioni limite ovvero tale disposizione non si applica nei confronti dei Paesi terzi se esistono convenzioni internazionali che non lo consentono il governo giallorosso ha rovesciato tali principi e ritiene che i cittadini italiani che chiedono una casa popolare devono essere sottoposti come di fatto accade a controlli e certamente i verifichi che devono presentare faldoni di carte gli stranieri invece no peraltro il governo evidentemente non conosce le leggi statali in vigore visto che la legge della regione Abruzzo non ha fatto altro che riprendere le normative vigenti in Italia Può un alberello costituire un pericolo per la sicurezza e l'incolomità pubblica? Il coordinamento del gas comunicato al commissariato di Solmona che domenica 29 dicembre alle ore 11 5 ambientalisti pianteranno un piccolo albero nel sito di proprietà della SNAM a Casipente come atto simbolico per la salvaguardia del nostro pianeta dai cambiamenti climatici provocati dall'uomo con l'utilizzo dei combustibili fossili nel comunicato si specifica che l'iniziativa poteva anche non essere comunicata perché la nostra Costituzione prevede che solo per le riunioni il luogo pubblico deve essere dato preavviso all'autorità in questo caso non si tratta di una riunione né tanto meno avrebbe il luogo pubblico dal momento che il luogo dell'iniziativa è privato eventualmente dovrebbe essere la SNAM a dissentire ma rischierebbe di essere in contraddizione perché da sempre ha affermato che una parte dell'area della centrale verrebbe comunque destinata a verde ci si augura specifica il coordinamento no up del gas che questa volta il questore dell'Aquila non faccia nuovo divieto come quello del 13 dicembre scorso perché sempre la Costituzione stabilisce che il divieto può sussistere solo per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica a meno che non si voglia insistere nel sostenere che un atto del tutto innocuo simbolico e non violento come la piantumazione di un alberello in un'area agricola di ben 12 ettari crei problemi all'ordine e alla sicurezza pubblica e ricordiamo che sabato 28 dicembre alle ore 17.30 a San Pedino presso la chiesa di San Michele Arcangelo sarà presentato il calendario 2020 regala di un sorriso seconda edizione un progetto realizzato dalla foto Loris di Lorenzo Vicari in collaborazione con la parrocchia San Michele Arcangelo l'evento sarà presentato da Luca di Nicola e ricavato verrà devoluto in beneficenza questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti noi sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennaduotv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci grazie per averci seguito anche i vecchi servizi